L'unità di crisi della Regione e Campania, per quanto concerne i positivi nelle scuole, ha preso atto del trend in crescita, decidendo di aggiornarsi a domani. Intanto i sindaci oggi hanno chiuso vari istituti. Il primo cittadino di Agropole, Damocoppo, l'ha sospeso per la giornata di oggi l'attività didattica in presenza in tutte le scuole. I nuovi casi di positività, spiega il sindaco, hanno creato difficoltà all'asola nell'ostillare le relative catene di contatto. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha disposto alla sospensione delle attività didattiche in presenza del plesso scolastico Monsignor Giovanni Pirone dell'Istituto Comprensivo e Giovanni Paolo II, fino a tutto il 12 febbraio. Il sindaco ha emesso anche una seconda ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 12 febbraio per il plesso scolastico Don Peppe Diana di Matierno, appartenente all'Istituto Comprensivo San Tommaso d'Aquino. Sospensione a scafate delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio a far data da oggi e fino a sabato 20 febbraio. Scuole chiuse e didattiche a distanza anche a gioi fino al prossimo 12 febbraio. Stop quindi all'attività per i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola media. Il sindaco di Castelnuovo Cilento, Eros Lamaida, ha comunicato la chiusura della scuola dell'infanzia e della scuola primaria di Pantana a causa di un contagio fino all'11 febbraio. Sospese le attività didattiche in presenza al plesso settembrini, fresa, pascoli di Nocera Superiore per le classi quarta e quinta, dove verrà effettuata una sanificazione straordinaria degli ambienti. Sospese le attività didattiche in presenza al plesso settembrini,